Buonasera a tutti e benvenuti. Notizia passata quasi sotto tono, ma importante anche perché dà un segnale di quello che sta capitando in, diciamo, Terra Santa. Dei missili sono stati lanciati su un collegio francescano ad Aleppo, quindi in Siria. Questo collegio è stato colpito pesantemente, vi è un morto, vi sono due feriti gravi, vi sono persone anziane comunque ferite e vi è lo scalpore per quello che è stato un gesto sconsiderato. Ovviamente gesto che non sapremo mai poi a chi attribuire, perché i missili volano di qua, di là e nessuno chiaramente si assume la paternità di questo assurdo, di questa assurda, di questa inqualificabile azione. Anche perché in questo convento i frati francescani accoglievano chiunque ne avesse bisogno proprio per dare conforto a tutti e anche perché comunque in questo convento vi era l'unico, tra virgolette, polmone verde dove comunque anziani e bambini potevano giocare, potevano stare bene, potevano stare insieme e così potevano anche ripararsi da quelli che sono gli orrori della guerra. Questo convento è stato colpito. Qualche tempo fa un'altra parrocchia francescana, il convento di El Ram era stato già colpito cinque volte ed ancora un altro collegio in Terra Santa, sempre francescano, è stato colpito. Ora dico questo e parlo dei francescani anche perché forse non tutti lo sanno ma in una sorta di suddivisione mondiale di quelle che possono essere le competenze pastorali dei vari ordini, i domenicani piuttosto che i benedettini, piuttosto che vari altri ordini religiosi, i francescani da sempre sono i custodi della Terra Santa, da sempre nel senso che sin dal 1217 la Terra Santa è di loro competenza. Vi è un custode, così viene definito, ed è un francescano che si occupa dell'Israele, della Palestina, della Siria, della Giordania, del Libano, di Cipro, di Rodi, comunque di quelle che sono i luoghi di pellegrinaggio mondiali. Sono loro, sono i francescani, sono coloro che hanno comunque la sovranità pastorale su queste terre e ne rispondono soltanto al Papa proprio con la figura del custode. È una questione come la Basilica del Santo Sepolcro, la Basilica della Natività di Betlemme, la Basilica dell'Annunciazione a Nazareth, è un impegno che già con Francesco che si era recato nel 1217 durante la crociata a parlare con il primo sultano o Imanide per così cercare di incontrare già al tempo diverse culture religiose, diversi pensieri in un'ottica di pace, in un'ottica di collaborazione. Da lì, da quella data e quindi da centinaia di anni, i francescani governano, tra virgolette, amministrano e comunque danno conforto, coordinano tutte quelle che sono poi le esigenze dei pellegrini e cercano di animare quelli che sono i luoghi sacri. Solo loro, non gli altri ordini. Ripeto, ciascun ordine ha una propria collocazione magari anche geografica, anche sociopolitica e si occupa appunto di una parte del mondo e quindi di cercare di ricondurla così ad una vita legata a quelle che sono un po' le esigenze religiose del cristianesimo. Ecco perché questo fatto anche ad Aleppo è un fatto assolutamente grave. Non so quanto ne abbia parlato adesso il nostro Santo Padre o quanto così ne possa essere stato dato risalto, ma questa presenza costante dal 1200 che è soltanto di plauso per questi frati minori che si occupano del prossimo e che in questo caso sono stati comunque ancora una volta colpiti selvaggiamente da pazzi che non sanno nemmeno quello che stanno facendo e nemmeno quello che stanno andando a toccare a livello millenario per quella che è l'opera di questi frati. Ecco sicuramente è motivo di ulteriore preoccupazione proprio in quella Siria che tutti da un lato adesso pensiamo possa aver risolto i propri problemi, vi è stato il concerto con i violini sulle rovine di Palmira e quindi tutto pare così essere scomparso quasi per magia con la pace rientrata in quei luoghi, i nostri frati minori però sono stati bombardati senza alcuna colpa e questo è molto grave. Grazie.